Chiudo perché non ho più energie, questo è il titolo della manifestazione che si è tenuta questa mattina a Ortona con una serrata generale di tutte le attività commerciali. Ortona si fa in qualche modo capofila di una protesta per una problematica che riguarda non solo Ortona ma tutta l'Abruzzo e tutta l'Italia. Il caro bolletto, le attività commerciali non ce la fanno più, stanno sostenendo spese oltre il 500% rispetto alla spesa media di una bolletta. Promotore di questa manifestazione è il noto ristoratore Franco Musa, avete raccolto 120 adesioni oggi ma come dicevo manifestazione capofila a cui la protesta deve coinvolgere tutti. Certamente, questa è la vera protesta e questa, cioè quello di suscitare negli altri un interesse su questo tipo di manifestazione che deve far arrivare la voce di tanti dove deve arrivare, cioè nella politica per poter poi farsi carico di situazioni che noi proponiamo, non facciamo una protesta così, tanto per farla. Dopo 18 mesi di chiusura per la pandemia ora anche questa problematica, molti di voi stanno ratezzando vecchie bollette ma intanto ne arrivano di nuove e sempre più care. Certamente, il vero dramma è questo, che noi siamo già nei rientri esasperati e riusciamo a malapena a onorare quelli. Ogni mese arrivano nuove bollette di entità indicibili e quindi non abbiamo la capacità, non è che vogliamo aiuti, noi non abbiamo la capacità di sopportare un aumento delle utenze del 5-600% rispetto a quanto si lavorava regolarmente. E noi abbiamo sempre quei prezzi, quindi che cosa dobbiamo fare? Non abbiamo nessuna possibilità, se ci staccheranno le utenze noi chiuderemo. Quindi chiedete sospensione dei distacchi e ridistribuzione del debito anche per decenni, no? Certamente, non credo di essere l'unico in Italia ad aver visto altre vicende con soldi spalmati per 40-50 anni. Noi vogliamo essere ligi e vogliamo essere cittadini modelli, cioè vogliamo sopportarci il peso di questo momento critico, nel modo più assoluto, insieme ad altri, però dobbiamo avere la possibilità di farlo. E quindi lo spalmare i debiti su diversi anni vuol dire anche lasciare ai nostri figli questo debito. Però noi non facciamo i vigliacchi, ce la vogliamo assumere questa responsabilità, insieme a tutti ovviamente, a partire dalla politica, ad arrivare a tutti senza nessun problema, però è necessaria perché è la condizione sine qua non per continuare a lavorare, altrimenti non avremo la possibilità neanche di finire l'eretizzazione.